di essermi spiegata e questo è 63 poi ah vado io grazie 64 piuma d'oca proposta 64 vero piumino d'oca pregio couture cappuccio non staccabile quando fa tanto freddo che ci sono zone che ha nevicato sta nevicando ci stanno già le tormente un altro po di neve guarda il cappuccio vedi alto puoi anche chiuderlo arricciarlo il cappuccio non ce ne sta tripa per gatti qua non prendi freddo punto e basta vero piumino d'oca vero vero piumino d'oca bellissimo questo colore azzurro polvere taschine messe leggermente di spiego con cursore grossa cerniera tutti i dettagli in oro la trapuntatura la finitura del finissaggio delle piume sono a figura di piccoli rombi il cappuccio leggermente ripreso con 1 2 3 4 cuciture più anche qui la trapuntatura a sacco finissima trapuntatura anche al fondo vero piumino d'oca vero piumino d'oca vero piumino d'oca la richiesta di 145 era un azzurro polvere un azzurro punto di azzurro delicatissimo no abbiamo finito ho preferito andare avanti e dopo facciamo andrea dopo vado via con i regali l'idea e regalo natalizie taschina taschina interna comodissima ok qui si sta anche la dicitura sono 90 per cento piumino 90 per cento piumino e 10 per cento piuma si lava a 30 gradi in lavatrice altrimenti lo portate nei centri specializzati vero piumino d'oca 145 euro e qua siamo proprio il peso piuma stiamo parlando di boh un etto forse 100 grammi vado anche in difetto 100 grammi peserà in tutto 45 euro da conto e 100 euro per natale avete una figliola una nipote guarda devo fare una rapina allora 100 euro e ti presenti con un regalo così per natale 145 euro vera piuma d'oca c'è sempre di più piumino costa ma è di una leggerezza a dir poco entusiasmante 145 euro colore azzurro polvere è un azzurro delicatissimo vero piumino d'oca 90 per cento piumino piuma 10 90 per cento piumino 10 per cento piuma facciamo l'altro proposta 65 penultimo capo per oggi 65 schiedo scusa per le spalle nel colore nero chiara oro questo è un cappotto perché prima te l'ho fatto vedere in moro adesso te lo faccio vedere in nero allora ai fianchi ripresi da tutto questo disegno elasticizzato cappuccio staccabile bordi in eco furra il collettino staccabile se non ti piace l'ecofur lo puoi togliere lasci il colletto è peccato perché da chic però per carità se uno non vuole l'ecofur la toglie chiuso compatta bottoncini e cerniera nel colore nero profili in stile inglese taschina di cortesia all'interno come le pellicce ve lo me lo indosso non so che taglia è ma me lo provo a indossare per farvi capire che è lungo non è una giacca ma è un cappotto si infatti me stretto è la 48 50 vedi che è lungo misure 48 50 50 piena e saltiamo andiamo alla 54 145 euro a me è piccolino la 5 la 48 guarda questo è il collettino se ti piace con la pelliccia cappuccio se non ti piace lo togli ma non toglietelo perché capita un'acquazione all'improvviso o fa freddo state belle calde caldi i capelli sono belli perfetti leggerissimo 145 euro guardatevelo un attimo anche qui il prezzo onesto siamo sotto i 200 il prezzo corretto da commerciante io ve lo propongo a 145 ma chi ve lo sta proponendo in giro e le ho visti sotto i 200 euro è più che onesto è il suo prezzo capito signore ok aspetta un attimo che litiga un attimo con la cerniera perché sono sempre quella che litiga con le cerniere no io ci litigo sempre eccolo qua comunque va bene 145 euro 145 euro nero eccolo qua con i dettagli arricciati che ti tiene un attimo leggermente più aderente al punto vita va bene l'ultimo capo per oggi è il 66 me lo vado a prendere io è un altro giacchettina in vera piuma d'oca vera piuma d'oca asso di cuori couture è un colore beige modello molto sfiancato ha le taschine più un'altra tasca con la zip in verticale collo a a cratere collo a cratere c'è l'etichetta che si sta sfilando collo a cratere il cartellino no l'etichetta collo a cratere 145 euro vedi che è molto largo lungo i fianchi vallo da vedere da lontano vedi vedi che è molto largo vedi collo a cratere in vera piuma d'oca 145 euro tre misure solamente colore elegante beige ah se vuoi puoi anche arricciarla al punto vita perché ci sono i pistoncini va bene vera piuma d'oca taschina eccola qua in verticale nascosta all'interno vediamo anche qua quanta piuma aspetta allora qui stiamo parlando di 90 per cento più meno sempre è 10 per cento piuma va bene eccolo qua molto moderno anche questo qua anche questo qua lo fai mettere da parte lo impacchetti per un bellissimo regalo vorrei vedere io quanti ti regalano un giacchino in vera piuma d'oca 145 euro vedi anche le taschine qua va bene taschina con la zip e la chiudiamo e hai la vera taschina a toppa eccola qua 145 euro va bene tesori 145 euro attenzione perché vi ho fatto dei prezzi penso che insomma l'avete apprezzato spero insomma allora adesso andiamo nell'angolo della bellezza con andrea per essere tutte quante più belle e più belli avete visto che i prodotti funzionano avete visto che non sono cose campate in aria avete visto che non è stata solo una scelta per fare il fenomeno e poi scappare avete visto che non si è badato di fare soldi perché così noi non stiamo facendo soldi perché i prezzi con alto cosmesi sono talmente al minimo ma al minimo ma è stato per lanciarli sul mercato per farli conoscere alla grande massa alla grande cerca di signore che vale siete voi signore e signori uomini oggi mi spiegherai anche il prodotto per l'uomo per piacere perché guarda che ci sono le siena bravissime allora signore fatti fatti concreti non cose campate in aria per fare il fenomeno e dopo interrompere ok mi raccomando tenete sempre bene impresso le spiegazioni di andrea perché guardate che andrea è una persona importante lasciate che io sono burlona e lo prendo anche in giro ma stiamo parlando con una persona altamente specializzata capito che ha serie credenziali nel suo lavoro allora vi aspetto due minuti dall'altra parte dello studio ferme la non vi muovete grazie a tutti eccomi qua ho ritardato mezz'oretta ma porta pazienza dai non è un problema tanto stasera dormo qua dormi qua stiamo tutti quanti assieme già dormono registi cameraman dormi anche te sto qua con Ruben che facciamo la partita briscola stasera buonasera buonasera a tutti i nostri amici e le nostre amiche che da casa ci stanno seguendo sempre numerosi e ci danno anche tanti attestati di stima sempre di più si fanno molto piacere è difficile perché perché devi fare pianino pianino devi entrare pianino pianino nella loro fiducia entriamo in punta dei piedi nella loro fiducia perché la fiducia è una cosa seria dicevo un formaggio una volta però entriamo con la sicurezza di sapere quello che diciamo perché è un discorso entrare in punta dei piedi per fare il fenomeno di figlio per provarci ok è un discorso invece parlare con cognizione di causa di quello che stiamo facendo perché perché vi ricordo noi siamo comunque un piccolo centro estetico e di dimagrimento questo considerate il vostro centro estetico che viene a casa vostra siamo dentro la vostra televisione voi ci vedete da un questa scatola ok che avete in casa ed è come se avessi aperto un angolo professionale all'interno di casa vostra quindi sfruttiamo questo fatto per potervi aiutare a risolvere degli inestetismi e sempre di più sempre di più vi porteremo uno scalino alla volta ad avere un angolo iper professionale anche da interagire comunque anche per interagire infatti io è come se vi avessi qua nel mio lettino da massaggio nel mio lettino da trattamenti e vi stessi facendo innanzitutto la diagnosi la consulenza per poter capire innanzitutto cosa fare su di voi cosa fare per riuscire a rendervi felici con voi stesse quindi con il vostro corpo ma perché tu ma chi sei te perché tanti signori non hanno visto perché ovviamente tu ci sei spiegato ti sei presentato tre quattro cinque volte ma ovviamente tantissimi signori non ti hanno visto quell'attimo che ti sei presentato non sanno chi sei perché questo è il grembiule bianco addosso chi si chi si pensa di essere chi sei te che lavoro fai sono un tecnico estetico sono specializzato in ambito estetico sia come spa manager quindi gestione di centri benessere sia come tecnico estetico e laser quindi specializzato in anche macchinari di un certo tipo di estetico ho lavorato per le più grosse aziende che c'erano ci sono in italia tuttora se è appoggiato su quanti centri estetici qui al nord italia attualmente in 32 centri estetici sono affiliati con il mio gruppo e ho dei centri estetici miei anche tre negozi che io ho visto dove lavoriamo dove abbiamo sia centro estetico che centro di magrimento quindi lavoriamo a 360 gradi per rendere belle le persone che vengono da noi uomini e donne naturalmente molti uomini anche ultimamente sempre di più in particolar modo per i trattamenti viso che prima non esistevano praticamente per l'uomo invece adesso le stiamo facendo tante mentre i trattamenti corpo bene a male si sono sempre fatti anche per l'uomo la lampada e qual tanto anche la pancetta eccetera eccetera da andare a lavorare quindi ne abbiamo fatte tante depilazione depilazione tantissimo ormai siamo lì con la depilazione uomo e donna più o meno siamo lì come percentuale per quanto riguarda il resto invece ci sono alcuni picchi ma si fanno anche lingui nel mondo certo si fanno anche lingui nel mondo non tutti qualcuno se lo fa beh ragazzi c'è chi piace e chi non piace insomma a casa sua uno fa qualcosa mia nonna diceva non so se a tavola a letto nessuno rispetto va bene va bene sono d'accordo allora sono d'accordo con la tua nonna detto questo vogliamo parlare oggi di qualcosa che magari non vi presento da qualche settimana ma non perché non ci siano o non siano validi ma semplicemente perché ci siamo un pochino focalizzati sulle promozioni d'urto che avevamo parleremo comunque del nostro i lift che è il prodotto di punta che stiamo presentando adesso che è veramente una novità eccezionale stamattina stessa parlavo con un collega un altro estetista imprenditore che ha diversi centri estetici anche lui nel nord italia e ci invidiava questo prodotto ok che è l'ailift e mi chiedeva mi chiedeva se posso dare anche a lui la possibilità di venderlo all'interno del centro o addirittura di dargli per farli fare dalle sue estetiste all'interno del centro quindi nemmeno da dare a casa da utilizzare in centro estetico per dare il risultato perché è molto più pratico rispetto alla classica gli anoforesi da cabina che utilizziamo nei centri medici nei centri estetici ed è molto più meno invasivo e più pratico il risultato è spettacolare quindi proprio con così hai detto io ho detto che se decide di farlo dovrà farlo a nome nostro ok comunque con il nostro kit il nome nostro sarà magica bule alte cosmesi naturalmente e con i prezzi imposti nostri quindi senza assolutamente avere la possibilità di aumentarli più che altro perché tenderebbero ad aumentare non a diminuire tenderebbero a portare in alto il trattamento perché il costo è molto più alto solitamente anche perché se ci aggiungete il costo dell'operatore dell'operatrice mentre vi fa il trattamento solo quello vi fa schizzare il trattamento alle stelle detto questo parliamo un attimo delle di tre prodotti che io amo molto innanzitutto visto che abbiamo accennato all'uomo si parliamo della nostra crema uomo mio marito era quasi finita ho visto perché la so tenendo d'occhio ed è perché utilizziamo questo tipo di prodotto intanto una crema uomo è diversa dalla crema donna perché perché la crema uomo deve essere un po più fluida la pelle dell'uomo è comunque diversa in particolar modo quella del viso anche perché l'uomo ha la barba perché comunque rasandosi tutti i giorni crea tutte le volte c'è 141 spessimento della pelle ma nel contempo una dilatazione dei poli del viso quindi la pelle dell'uomo tra l'altro tende a l'impurità come i punti neri come vabbè come noi dai come di più perché logicamente portando ad esempio la lametta in giro per il viso molto più facile che mi porti anche delle impurità perché comunque taglio comunque c'è possibilità che vengono fuori dei puntini di sangue e da lì poi portare anche impurità all'interno della pelle allora in questo caso abbiamo una crema antirughe che è nata per l'uomo è una crema fluida quindi non grassa perché l'uomo tende ad avere la pelle più grassa ma te non ce n'hai neanche una qua di grasse perché io ti faccio test personale però in questo caso è fluida tra l'altro è da 125 ml quindi ce n'è anche un bel po' all'interno qual è il bello di questa crema che non solo non unge non si attacca nemmeno alla cheratina cioè la cheratina perché perché alcuni come me tengono la barba non rasano la barba se io me la metto sul viso questo tipo di crema non si attacca alla cheratina della barba quindi non mi fa l'effetto unto sulla barba ma penetra direttamente se invece utilizzassi una classica crema tipo la fitoelastina tanto per dire sulla barba dell'uomo in questo caso invece andrebbe ad impaccare perché un pochino tende a ungere la barba dovrei utilizzarla dove non ho la barba questo invece si può utilizzare anche sulla barba o come dopo barba o sulla barba sulle rughe naturalmente e sulle occhiaie eccetera eccetera all'interno troviamo la papareale troviamo il collagene troviamo l'elastina troviamo l'acido ialuronico tutte robe buone tutte robe buone la papareale perché ho bisogno di nutrire la pelle la pelle dell'uomo è mista solitamente all'interno c'è anche un po di estratto di bergamotto sì perché appunto la pelle è mista dove ho la pelle un po più grassa devo andare ad asciugarla ecco perché utilizzo il bergamotto dove la pelle più secca e l'uomo tende la secchezza ad esempio sulla parte alta oppure la parte esterna degli zigomi c'è la papareale che va a fare da nutrimento l'acido ialuronico perché comunque devo andare a lavorare e fare riempimento sulle ruga attraverso l'acqua quindi in questo modo collagene astina lavoriamo per il ripristino dei fili che compongono la nostra pelle andiamo a fare un'azione preventiva anti rughe è un prodotto straordinario costa 49 euro e ce n'è molto all'interno due mesi io ho fatto visto mio marito due mesi è durato la profumazione è molto conosciuta perché è un profumo che trovate sul mercato profumo per uomo buonissimo riconoscibilissimo naturalmente e quindi come viene utilizzata la si mette sulla ruga oppure direttamente sul viso dove abbiamo fatto anche la vero e la si massaggia fino ad assorbimento non ha un odore persistente quindi comunque la profumazione è molto tenue ma si sente cioè diventa un qualcosa che ispira sicurezza no ispira che ti viene voglia di dare un bacio sul collo esatto ispira comunque sicurezza attenzione va benissimo anche per il mani se il box è colore cioccolato in modo che così l'uomo può portarla anche ad esempio in palestra e non si vede sembra uno shampoo normale è stato fatto apposta questo tipo di packaging in modo che l'uomo che si vergogna un pochino di più della donna non deve chiedere mai se la può mettere dentro nello zainetto e se va in palestra questo regalo stupendo se state cercando qualcosa di veramente buono per vostro marito e vostro figliolo costa solo 49 euro attenzione 49 euro che questo è un prodotto tranquillamente potremmo mandare oltre i 100 49 euro ve lo chiederanno ancora dopo crema uomo insieme a questa visto che l'ho proposta due secondi fa c'è la crema alla fitolastina perché usare la crema alla fitolastina allora intanto è un prodotto che abbiamo scelto volutamente di mantenere a 39 euro al pubblico quindi a un prezzo molto molto basso e molto competitivo abbiamo scelto di tenere un prezzo di questo tipo perché vogliamo utilizzarla anche per fare un ingresso anche alle adolescenti ai nostri prodotti ai nostri cosmetici a tutti quelli che non hanno ancora utilizzato il nostro prodotto allora bravissima infatti stavo parlando ho letto proprio ieri un articolo su un famoso giornale star bene tanto lo dico che parla del se si può dare o meno dei prodotti su adolescenti crema viso su adolescenti allora la crema viso per l'adolescente è sempre un'arma a doppio taglio perché dobbiamo stare attenti a non utilizzare un prodotto troppo aggressivo che mi vada a virare il ph della pelle la pelle dell'adolescente funziona come un pendolo ok quindi del giovane non solo dell'adolescente perché è un equilibrio pazzesco di aromoni fino ai 24 25 anni la pelle funziona come un pendolo se io vado ad acidificarla troppo ad esempio utilizzando un acido forte rischio di seccarla e dopo un po' al primo cambio di stagione la pelle fa l'effetto inverso cioè? si diventa molto più grassa perché ricorda che si è seccata molto utilizzando quel prodotto allora emette più sebo ad esempio per andare a compensare la problematica e stessa cosa invece se faccio il contrario se invece vado a ingrassare la dough molto utilizzando una crema molto grassa tipo che ne so quelle creme che utilizzavamo una volta si dai che il viso diventava tutto lucido dai che il viso diventava lucido in questo caso quando l'ho tolta quella pelle mi fa l'effetto inverso perché sopra specie quelle che hanno molta paraffina senza nominare prodotti che tranquillamente avete comprato che utilizzate a casa ok famosissimi questi hanno molta paraffina cosa vanno a fare? ti vanno a fare uno strato lucido sulla parte esterna ma sotto mi sto seccando è come se avessi messo la pelle sotto serra che non respira? non respira la pelle mi si secca e in questo modo non solo non prevengo le rughe ma addirittura rischio anche di stimolarle cosa utilizzare in questi casi? ecco un prodotto straordinario la fitolastina per essere utilizzata su qualsiasi tipo di pelle me la va a idratare ma la va a idratare in un modo particolare stimolando la nostra pelle e le nostre cellule a produrre collagene e elastina quindi non siamo noi che gliela cacciamo dall'esterno e la obblighiamo attraverso un petrolato a rimanere sulla pelle ma dall'interno stimoliamo attraverso dei liposomi le cellule a produrla producendola elasticizziamo la pelle quindi la pelle elastica non fa rughe quindi è un trattamento antirughe la fitolastina e mi trattiene la pelle idratata questo va benissimo su uomo, donna, ragazzo e ragazza logico che come vi dicevo prima sull'uomo non la mettete solo la barbafolta la mettete invece sulla fronte, sul naso, sulle mani, sul collo eccetera eccetera vi preverrà le rughe in futuro avrete la pelle che anziché iniziare a invecchiare dai 40 magari iniziare a invecchiare dai 50 ai 60 questa è una gran bella cosa e solo perché abbiamo fatto prevenzione guardate che la pelle è cambiata tantissimo negli ultimi anni perché se pensate alle nostre nonne quando avevano 60 anni sembravano in carta pecorite ti parlo le nonne di 50-60 anni fa sì perché non usavano niente, non usavano nulla non si utilizzava nulla adesso che iniziamo comunque a utilizzare prodotti validi idratanti a lavarsi con il latte e il tonico, la pelle a fare un peeling sulla pelle questa pelle ci restituisce la gioventù ci restituisce la giovinezza quindi allunghiamo l'età media l'età media non deve allungarsi solamente per chi ci fa arrivare la pensione che dai 60 ormai siamo arrivati ai 70 anni ormai l'età media e la prospettiva di vita deve anche aumentare per la nostra pelle e per la nostra bellezza è inutile che arrivo 80 anni e sto maledicendo di essere al mondo perché ho dolori dappertutto, male dappertutto, malattie tremende bisogna arrivare in salute la pelle è un organo da curare la pelle è un organo, come è un organo il vostro cuore, come è un organo il vostro fegato eccetera eccetera quindi questi prodotti servono a curare l'organo più grande che abbiamo che è la pelle e noi dobbiamo voler bene a questo organo perché comunque i danni sulla pelle sono tanti che possono venire fuori crema alla fitolastina, solo 39 euro avete fatto un ciclo di trattamenti ad esempio il ciclo d'urto con il nostro i-lift oppure con la bava di lumaca oppure con qualsiasi altro tipo di prodotto ecco che finito il ciclo d'urto il mantenimento può essere la fitolastina un prodotto che si può utilizzare mattina e sera ok, 39 euro 39 euro già in età adolescenziale già in età giovane terzo prodotto Evergreen e questo invece parliamo di un pezzo da 90 è la nostra crema al mandelico allora non è che perché non la sto presentando con la penna i-lift questa non servirebbe in realtà la crema all'acido mandelico voi dovreste farla anche durante il trattamento i-lift se voleste avere un risultato spettacolare insieme? certo cioè spiegami come come facevamo prima latte tonico sì e un giorno la crema al mandelico un giorno la bava di lumaca ah ok mentre il filler che è il riempitivo immediato per le rughe che sarebbe l'i-lift in questo caso con botox e acido iuronico mi va a stirare la ruga ma io la pelle la devo rigenerare allora questo è il rigenerante possiamo utilizzare un peeling allora tante di voi avranno acquistato peeling per il viso peeling meccanici meccanici sarebbe quelli con i granolini che ti grattano sì peeling chimici acido glicolico ma non c'è nulla nulla attualmente sul mercato che abbia un'efficacia e una bellezza di risultato come la crema all'acido mandelico che cosa fa la crema all'acido mandelico? un estratto dalle mandorle mi va a era riempitivo vero? no no questa qua va a cambiare la pelle quindi mi fa una rigenerazione veloce della pelle quindi è come se avessimo un'esfoliazione molto più veloce se prima cambiavamo la pelle nell'arco di 15-20 giorni questo caso me la fa fare in due ore ma attenzione a differenza del glicolico o altro quando il pH si pareggia quindi arriva a 5,5 in questo caso si ferma quindi non fa ombre e luci ma va a pareggiare il viso la crema all'acido mandelico va messa una volta ogni due giorni avete delle micromacchie benissimo crema all'acido mandelico ma vi dico di più se sopra dopo avete messo la crema all'acido mandelico sopra ci passate l'i-lift cosa succede? l'i-lift è un trattamento di ionoforesi quello che vediamo dopo la nostra penna la ionoforesi cosa fa? attraverso micro scariche manda in profondità il principiativo ho utilizzato la crema all'acido mandelico sopra benissimo abbiamo una macchia andiamo a lavorare sulla macchia e in questo modo se la macchia non è superficiale ma è molto profonda e non siamo riusciti a toglierla utilizzando l'acido mandelico e basta andiamo a lavorare sotto nel micro cloasma e andiamo a raschiarla via quindi il risultato aumenta 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 quindi va benissimo per le macchie va benissimo per rigenerare la pelle quindi compattarla e poi va alternata alla sua bava di lumaca eccola qua adesso allora l'acido mandelico costa 69 euro e faceva parte del nostro trilogio iniziale adesso vi parlo della promozione di oggi che è quella con la nostra e-lift ma parto a parlare di questa partendo appunto dalla parte curativa del servizio allora vi dicevo l'acido mandelico andrebbe idealmente alternato con la crema alla bava di lumaca che cos'è la crema alla bava di lumaca ho trovato una parola che la descrive perfettamente è un cicatrizzante la bava di lumaca è un cicatrizzante all'interno abbiamo anche collagene ed elastina che avete visto prima nella crema uomo è acido diuronico perché vogliamo andare a ricostruire la pelle cicatrizzandone le imperfezioni quindi abbiamo delle micro cicatrici abbiamo dei micro bucchini abbiamo dell'acne residuo abbiamo dei brufolini abbiamo i cicciolini di grasso abbiamo rughe profonde le cicatrizziamo è come se avessimo un badile abbiamo la buca e la copriamo e poi ci asfaltiamo sopra in modo che lì dentro non ci si cada più questo fa la bava di lumaca è un prodotto straordinario è un prodotto che se voi utilizzate per un paio di mesi vi sembrerà che la vostra pelle non sia più la stessa tutte le nostre clienti ci hanno ringraziato per questo gran prodotto e vi assicuro che anche quelle che hanno provato la bava di lumaca di tutte le altre aziende provando questa restano stupefatte perché in realtà non c'è solo la bava di lumaca questo qua è una sinergia di principio attivo all'interno trovate tanti principi attivi che insieme danno questo risultato la bava di lumaca da sola non fa niente altrimenti andate fuori sull'aia vi prendete la vostra lumachina ve la passate sul viso vedrete che e fa il miracolo non fa niente non fa nulla vi sporca vi sporca non vi fa altro in questo caso invece la sinergia l'insieme dei principi attivi crea questo risultato bava di lumaca dicevo prima del latte e del tonico perché stiamo parlando di un top di trattamento come se foste in un centro estetico a fare il trattamento venite qua volete uscire dal mio negozio col viso splendido col viso stupendo col viso splendido tanti mi chiedono voglio farmi l'iniezione di ialuronico voglio farmi l'iniezione di botulino cosa posso fare mi metto i fili all'interno del viso ma perché? perché è una cosa così invasiva quando potete avere lo stesso risultato senza fare trattamenti invasivi e addirittura ripeterlo quante volte volete a casa vostra da sole allora siete qua vi distendo sul vostro lettino prima vi passo il latte perché lo faccio? non perché voglio sprecare soldi di latte detergente che è quella quel pirla di estetista ok che vuole sprecare il prodotto perché ve lo fanno il latte? lo fanno perché devo pulire la pelle senza lasciare i residui sotto fatto questo utilizzo il tonico ma non un tonico o un latte normale devono essere calmanti perché devo mandarti fuori bellissima mica ti posso mandare fuori arrossata? arrossata sì quindi abbiamo dentro amamelis camomilla e mirtillo fatto questo voilà partiamo con il peeling di mandelico o eventualmente ti metto già la maschera la baba di lumaca la utilizziamo spalmando le applicando la belle sulla pelle la lasciamo agire per qualche minuto quindi non immediatamente subito dopo fare la penna lift e poi colpo di grazia facciamo la e-lift che cos'è la e-lift? e vai fuori col viso che sembra un raggio di sole eccolo qua la e-lift la e-lift è un macchinario un macchinario che ci invidiano tutti è un macchinario straordinario ed è un macchinario che fa la ionoforesi che cos'è la ionoforesi? l'iniezione senza ago viene definita cercate anche su google l'iniezione senza ago che cosa va a fare? attraverso delle micro scosse che voi non sentite perché è una micro corrente prende il principio attivo che io ci metto dentro e lo mando in profondità nella pelle in modo a farlo lavorare sia sull'ipoderma sia sul derma sia sull'epidermide che sono i tre strati principali della pelle ok? andando a lavorare quasi fino al muscolo cosa ci mettiamo all'interno? in questo caso avete sei fiale di acido ieluronico a basso pedo medico insieme con del botox in realtà si chiama ottapeptide ok? e sarebbe un paralizzante un semi paralizzante che vi blocca che vi blocca la parte muscolare la parte della pelle dove è stato utilizzato è un paralizzante come può essere il vereno di vipera come è il botulino il botulino è un paralizzante che se lo inalate addirittura vi paralizza i polmoni in questo caso invece non viene inalato è sterile e inerte quindi non dà nessun tipo di problema viene utilizzato con la nostra penna per andare a bloccare l'espressione facciale allora quando lo utilizziamo come funziona? ve lo ripeto un'altra volta avete due bottoni allora innanzitutto dietro c'è un tappino rotondo infilate la batteria qua c'è la batteria che abbiamo già messo dentro la volta scorsa quindi si hanno già imparato lo stappate mettiamo dentro lo accendete premendo power ok? viene fuori la lucina verde è già pronto dentro c'è il tappino svitando il tappino ci mettiamo su una fialetta sul tappo direttamente quando siamo pronti premiamo lo starter e ce l'appoggiamo e andiamo a lavorare va benissimo per l'occhiaia guardate che bella riempie premete un pochino per far uscire il prodotto un secondo e dopo non premete più dopo basta perché se no viene fuori tutto questa potete utilizzarla diverse volte anche e poi andiamo a lavorare queste micro scosse mi mandano il principio attivo in profondità e lavorandolo mi va a stirare le rughe benissimo per le rughe d'espressione abbiamo fatto la Miriam venerdì che è l'altra modella che è venuta a fare gli abbiamo fatto un mezzo avviso siamo andati avanti fino alle nove che continuano a dirmi mi sento tirare mi sento tirare mi sento tirare mi sento tirare ho la faccia che mi tira da una parte e non dall'altra sentite proprio la differenza allora si massaggia anche tutti i giorni vero Andrea? anche tutti i giorni anche due volte al giorno se volete una volta che l'ho massaggiato andiamo a tenere aperta la ruga o addirittura a modellare l'ovale del viso se avete ah altro punto dove si può utilizzare benissimo avete un pochino la parte esterna del mento cadente ci lavorate su con questo e poi lo alzate ve lo stirate come andare a fare il filler con i fili sul viso fatevelo voi direttamente lo stirate lo mandate in profondità si cementa la zona e il viso vi si stira vi spostate l'ovale volete fare un viso più orientale andate a lavorare sullo zigomo portiamo lo zigomo verso l'alto più alto si oppure allarghiamo la parte frontale o cipitale eccezionale costa 138 euro e attenzione noi ve lo diamo in regalo cioè con 199 euro in tutto ma non per sempre aspetta non per sempre questo arriveremo fino a fine anno poi basta vi dico già che ce lo chiedono all'estero io sto fine settimana sono ad Atene era questa sono ad Atene a presentare a far presenza in una boutique una boutique dove mostrano dove fanno il lancio di questo nostro macchinario per la Grecia quindi se volete lo dai regalo per chi acquista l'offerta ma non hai spiegato la ricarica chiamiamola ricarica è una ricarica dentro le fiale dentro le fiale dell'i-lift come vi dicevo ce ne sono 6 già pronte e ci sono solo per i prossimi ormai non sono più 100 sono oltre 30 o 40 pezzi ancora dopodiché avrete solamente la ricarica che cos'è la ricarica è lo stesso prodotto che avete all'interno dove potete utilizzarlo in due metodi eccolo qua uno lo mettete con la pompetta sull'esterno della pelle e lo spirate e lo asciugate con il phon è sempre acido ironico con il botox ok oppure lo stappate con la pipetta che trovate all'interno della scatola che è questa ne prendete un pochino lo mettete dentro nella fiala ci mettete mezza fiala d'acqua distillata mescolatele utilizzate come avete utilizzato le altre fiale quindi vi diamo anche la ricarica fate conto che le fiale sono da 2 ml qua ce ne sono 30 ml quindi vuol dire che avete ricariche per andare avanti per molto 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 tempo andate avanti tranquillamente 4-5 mesi con questo prodotto attualmente lo facciamo così cambierà anche di questo il packaging più avanti avrete la pompetta direttamente dentro anziché dover stappare quindi non avrete più questa pipetta esterna ad utilizzare costa 75 euro solo questo garanzia 2 anni costa 75 euro la penna garanzia 2 anni allora altra cosa che ci tengo a dire alcune clienti mi dicono ma perché non c'è più il latte il tonico in regalo a parte che qua facciamo un regalo da 138 euro quindi non il latte tonico è molto più ampio come regalo cioè oltre a questo vorrebbero ancora un altro latte tonico ci chiedono perché non c'è più la promozione del latte tonico ragazzi quando ci sono le promozioni dovete prenderle al volo quando vi diciamo muovetevi non siamo come quelli che vendono i divani che ogni settimana hanno la promozione ok è l'ultima settimana è l'ultima settimana è 10 anni che è l'ultima settimana 3 anni dai 3 anni allora in questo caso noi vi diamo una promozione vi diciamo che è a tempo chiuso perché è a tempo chiuso poi il prezzo tornerà normale mi dispiace dovete pensarci prima se dovete approfittarne per fare un regalo a voi stesse o a chi volete bene fatelo quando c'è la possibilità perché poi la possibilità non ci sarà più costerà di più se io voglio prendere il bambolotto che dice ciao mamma alla mia Matilde e ci voglio andare il 24 di dicembre per il 25 sapete quanti ne trovo neanche uno infatti lo prendo adesso e me lo metto via lo incarto e quando sarà il 25 dicembre Babbo Natale arriva glielo porterà vabbè ma comunque spiega l'offerta ripeto l'offerta quindi il filler ovvero la ricarica di botox e acido ialuronico la crema la bava di lumaca il latte e il tonico per un totale di 199 euro vi diamo in regalo l'i-lift compreso di batteria più 6 fiale ok questa è la super promozione guardate che ci stanno chiamando anche da Dubai per avere questo prodotto dove naturalmente lo porteremo al doppio del prezzo dai fai bene va bene penso che per oggi abbiamo raccontato un po' di cose ricordatevi comunque che sono attive le due promozioni con i boxers nel lente il boxers assodante dove avete i pantafit pantafit taglie grandi e pantafit taglie grandi domattina siamo già in distribuzione domattina arriva signore allora domani ma ce l'ho già nelle mani mie domani mattina signore le signore che stanno attendendo stanno aspettando il pantafit o la pancerina taglie grandi fino alla taglia 64 chiamate prenotate perché domani mattina sono già pronti vai nel mio magazzino nel tuo magazzino vai a posto capito signore mi raccomando fino alla taglia 64 quindi approfittate nel 147 il boxers assodante in quel caso e 157 il boxers nel lente e ne abbiamo parlato tanto venerdì ne riparleremo di nuovo teniamo il venerdì come appuntamento corpo principale e oggi però io voglio insistere perché approfittate di questa promozione finché c'è perché così bassa non potrete mai trovarla 199 euro di tutto questo con l'i-lift in regalo l'atte tonico crea dipendenza anch'io sono adesso sono dipendente dall'atte tonico mi sento in colpa se non le uso ho imparato a 53 anni vabbè meglio tardi che mai meglio tardi che mai grazie signore grazie Andrea infinite ci vediamo dall'altra parte dello studio con l'angolo dei regali natalizie poi via con l'atelleria per la casa due minuti di pausa vi aspetto due minuti dall'altra parte grazie Andrea grazie a tutti 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 andiamo avanti con il nostro Natale ma non solo Natale con i nostri autoregali autococcole o se volete fare queste coccole a chi volete bene dunque proposta 67 continuiamo con le nostre perché ormai sono anche terminati cioè ne abbiamo altri pochi stiamo parlando di qualche decina eh di possibilità di accontentare di su questa proposta scandalosa sempre in termini di prezzo abbinato al livello altissimo di qualità il plate adesso siete andate sicuramente a fare struscio avete visto i negozi le bancarelle e quant'altro che cosa propongono allora con 45 euro noi vi mandiamo a casa il plate della lana rossi ovviamente io ve lo sto proponendo qui aperto ma ovviamente sarà confezionato nella sua confezione bella chiusa vergine che nessuno ve la tocca in pura lana vergine misura un metro e trenta per un metro e settanta può essere usato sia per fare da lettino singolo sia per metterlo sopra il letto magari anch'io io adesso sto passando un periodo che ogni che ne so mezz'ora ho caldo da morire poi ho freddo è un coprirmi scoprirmi un coprirmi scoprirmi per non torturare il mio marito la metà dell'altro letto io ho messo la coperta una copertina in più perché lui ha freddo ecco buono anche così buono anche per tenere nella poltrona dell'affetto per guardare la televisione buona per mettere sul divano assolutamente un plaid da non coprire da non nascondere da non inquattare da qualche parte quando vengono ospiti a casa che vi vergognate è assolutamente un plaid di qualità prestigiosa stiamo parlando di un plaid in pura lana vergine lana rossi by marzotto 45 euro la richiesta allora così se ve lo confezionate voi o dite guarda se lo voglio ricevere mi arrangio io se è per regalo me lo voglio io per casa mia 45 euro vi dico i colori allora questo è marrone se volete marrone poi questo è nel colore beige che ha un po' di cammello un po' di beige le frangettine eccolo qua sempre uguale misure allora marrone beige poi ce l'abbiamo nel verde che è difficile sbagliare colore verde sapete che non sono di importazione lana rossa e by marzotto un'azienda storica italiana se ricordate la contessa marzotto che è venuta a mancare quest'anno mi sembra vero quest'anno sono morte tantissime veramente tantissime persone importanti sono morte anche persone normali tra virgolette siamo tutti normali ma sono morte molte persone molti bip allora verde poi ce l'abbiamo in colore classico grigio l'opportunità di averlo in grigio con una reghina poi ce l'abbiamo in colore cammello eccola qua questa è la variante cammello bel regalo è veramente ve ne uscite con lusso con 45 euro poi ve ne venite fuori in colore nocciola nocciola fa freddo Antonio la chira così nocciola poi ce l'abbiamo nel colore rosa eccola qua sempre scozzese ma rosa vedi bello anche questo colore rosa assai bello poi ce l'abbiamo nel colore grey eccolo qua questi sono i colori a disposizione ripeto un metro e trenta per un metro e settanta a 45 euro senza confezione allora questi sono i colori ripeto un metro e trenta per un metro e settanta purissima lana vergine lane rossi by marzotto chiusa all'interno della sua bella confezione belle le carte bello perché è un regalo prestigioso è un regalo da autoregalarsi o da regalare a chi volete bene vedi pura lana vergine vedi pura lana vergine va bene ecco qua tutte le diciture la richiesta di 45 euro adesso torno un attimo indietro vi dico di nuovo i colori così segnete meglio se siete ancora sull'indeciso allora moderno questo è molto moderno colore chiamato colore grey colore grey e lo metto via non ai quadri ma alle righine adatto a una coppia giovane o a chi ha un arredamento stile moderno vedi bello si presenta bene grey poi rosa rosa mamma mia che freddo ho aperto la porta ma fa tanto freddo vero mamma mia grey e rosa con un po' di grigio eccolo qua vedi questo è il colore rosa ve lo faccio vedere con calma vedi eh che cosa non la faccio io in diretta rosa rosa eccolo qua rosa con un po' di grigio e lo mettiamo via dopo li rimettiamo capito ma intanto li mettiamo via poi in colore nocciola vi apro il nocciola ve lo faccio vedere dai con calma eccolo qua questo è il colore nocciola ve lo apro per metà vedi questo è il colore nocciola nocciola è di classico molto soffice come colore molto delicato sul chiaro questo è il colore nocciola nocciola oddio non uccidermi nocciola poi ve lo faccio vedere in colore cammello eccolo qua colore cammello ci siamo eccolo qua questo è il colore cammello se decidete il cammello cammello è questo va bene lo so che è questo sotto il cammello ma se mi hanno scritto l'etichetta cammello devo ovviamente avvalermi dell'etichetta che hanno scritto da l'ane rossi questo per loro è colore cammello che in realtà è un nocciola un tortola comunque cammello se lo volete questo poi grigio vabbè qua è facile non si sbaglia eccolo qua grigio con solo poche righine in nocciola e in nero questo è grigio vedi guardami vi faccio vedere com'è fatto eccolo qua questo è grigio ve ne sto aprendo solo metà solo metà 45 euro colore grigio attenzione ripeto perché anche qui sono arrivata agli sgoccioli non ne ho tante tante più proposte poi in verde ecco perché abbiamo sempre fatto le coperte in pile sotto natale ma quest'anno ho deciso di aggiungere ancora più qualità ecco per distinguermi sempre per distinguervi voi che lo regalate per distinguermi io in televisione vedi cioè è un piacere è un onore riceverlo una roba del genere pura lana vergine questa è nella variante verde cioè vi fa fare un regalo signorile vi fa fare una bellissima figura perché tutti quanti accettano una coperta in pura lana vergine lana e rossi by marzotto poi questa è in colore beige che io lo chiamo cammello ma loro lo chiamano beige comunque per le appassionate del colore cammello dite beige e vi arriva il cammello va bene vedi questo è per le appassionate per farvi capire che è lungo non è una giacca ma è un cappotto si infatti me è stretto è la 48,50 vedi che è lungo misure 48,50 50 piena e saltiamo andiamo alla 54 145 euro a me è piccolino la 48 guarda questo è il collettino se ti piace con la pelliccia cappuccio se non ti piace lo togli ma non toglietelo perché capita un'acquazione all'improvviso o fa freddo state belle calde caldi i capelli sono belli perfetti leggerissimo 145 euro guardatevelo un attimo anche qui il prezzo onesto siamo sotto i 200 il prezzo corretto da commerciante io ve lo propongo a 145 ma chi ve lo sta proponendo in giro e le ho visti sotto i 200 euro è più che onesto è il suo prezzo capito signore ok aspetta un attimo che litigo un attimo con la cerniera perché sono sempre quella che litiga con le cerniere no io ci litigo sempre eccolo qua comunque va bene 145 euro 145 euro nero eccolo qua con i dettagli arricciati che ti tiene un attimo leggero di essermi spiegata e questo è 63 poi ah vado io grazie 64 piuma d'oca proposta 64 vero piumino d'oca pregio couture cappuccio cappuccio non staccabile quando fa tanto freddo che ci sono zone che ha nevicato sta nevicando ci sono già le tormente un altro po' di neve guarda il cappuccio vedi alto puoi anche chiuderlo arricciarlo il cappuccio non ce ne sta tripa per gatti qua non prendi freddo punto e basta vero piumino d'oca vero vero piumino d'oca bellissimo con sto colore azzurro polvere taschine messe leggermente di spiego con cursori grossa cerniera tutti i dettagli in oro la trapuntatura la finitura del finissaggio delle piume sono a figura di piccoli rombi il cappuccio leggermente ripreso con una due tre quattro cuciture più anche qui la trapuntatura a sacco finissima trapuntatura anche al fondo vero piumino d'oca vero piumino d'oca vero piumino d'oca la richiesta è di centoquarantacinque era un azzurro polvere un azzurro punto di azzurro delicatissimo no abbiamo finito ho preferito andare avanti e dopo facciamo Andrea e dopo vado via con i regali l'idea è regalo natalizie taschina taschina interna comodissima ok qui si sta anche la dicitura sono novanta per cento più meno novanta per cento più meno e dieci per cento più ma si lava a trenta gradi in lavatrice altrimenti lo portate nei centri specializzati vero piumino d'oca centoquarantacinque euro e qua siamo proprio il peso piuma stiamo parlando di boh un etto stiamo forse cento grammi vado anche in difetto cento grammi peserà in tutto quarantacinque euro da conto e cento euro per natale avete una figliola una nipote guarda andiamo a fare una rapina dai allora cento euro e ti presenti con un regalo così per natale centoquarantacinque euro vera piuma d'oca c'è sempre di più piumino costa ma è di una leggerezza a dir poco entusiasmante centoquarantacinque veramente più aderente al punto vita va bene l'ultimo capo per oggi è il sessantasei me lo vado a prendere io è un altro giaccone giacchettina in vera piuma d'oca vera piuma d'oca asso di cuori couture è un colore beige modello molto sfiancato ha le taschine più un'altra tasca con la zip in verticale collo a cratere collo a cratere c'è l'etichetta che si sta sfilando collo a cratere il cartellino non ho l'etichetta collo a cratere centoquarantacinque euro vedi che è molto largo lungo i fianchi vanno a vedere da lontano vedi vedete che è molto largo vedi collo a cratere in vera piuma d'oca centoquarantacinque euro tre misure solamente colore elegante beige ah se vuoi puoi anche arricciarla a punto vita perché ci sono i pistoncini va bene vera piuma d'oca taschina eccola qua in verticale nascosta all'interno vediamo anche qua quanta piuma ha aspetta allora qui stiamo parlando di 90% piumino sempre e 10% piuma va bene eccolo qua cinque euro colore azzurro polvere un azzurro delicatissimo vero piumino d'oca 90% piumino piuma 90% piumino 10% piuma facciamo l'altro proposta 65 penultimo capo per oggi 65 schiedo scusa per le spalle nel colore nero chiara oro questo è un cappotto perché prima te l'ho fatto vedere in moro adesso te lo faccio vedere in nero allora ai fianchi ripresi da tutto questo disegno elasticizzato cappuccio staccabile vedi bordi in ecofur il collettino staccabile se non ti piace l'ecofur lo puoi togliere lasci il colletto è peccato perché da chic però per carità se uno non vuole l'ecofur la toglie chiuso compatta bottoncini e cerniera nel colore nero profili in stile inglese taschina di cortesia all'interno come le pellicce me lo indosso non so che taglia è ma me lo provo